Siamo riusciti in Europa a spuntarla sul tetto al prezzo del gas. L'energia che ha raggiunto dei picchi incredibili l'anno scorso e che rimane una sfida da risolvere. Tutti gli ingredienti che caratterizzano il panettone sono aumentati all'incirca del 50%. Siamo davanti a una manovra che per 21 miliardi è dedicata alla bolletta praticamente. A spaventare le famiglie e le imprese sono i costi dell'energia. Hanno dato un contributo determinante all'aumento del costo della vita. Dignità! 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 Avere in qualche modo nettizzato o mitigato il costo della bolletta sostanzialmente per le famiglie con un'ISE inferiore a 15 miliardi. L'aver fissato queste 180 euro per il prezzo del gas ci aiuta perché comunque si vede che c'è già stata una tendenza verso il basso. Ottobre 2019 15 mila euro di bolletta fuori stagione, ottobre 2022 altrettanto fuori stagione 95 mila.